I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, guidati dal colonnello Pierpaolo Manno, coordinati dalla Procura, hanno dato esecuzione all'ordinanza con la quale il GIP ha disposto l'applicazione della misura cautelare personale nei confronti di 15 persone per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai reati rispettivamente ipotizzati a vario titolo di corruzione, concussione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico, abusiva introduzione in sistema informatico ed emissione di fatture per operazioni inesistenti poste in essere anche a vantaggio di plurime società nei confronti delle quali è stata ipotizzata la rispettiva responsabilità amministrativa. In particolare è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di due imprenditori e di un dirigente medico docente universitario del Renato Dulbecco di Catanzaro, nonché la misura interdittiva della sospensione dei pubblici uffici e servizi nei confronti di 13 pubblici ufficiali, fra cui il medico docente universitario, sottoposto anche alla misura degli arresti domiciliari, dipendendo dipendenti, rispettivamente dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, dell'arenato Dulbecco di Catanzaro, dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone, dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, del grande ospedale metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria e dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, nonché uno degli indagati anche consigliere comunale di un comune della provincia di Catanzaro. I provvedimenti emessi su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro scaturiscono dalla complessa attività di indagine svolta dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Gruppo Tutela Spesa Pubblica della Guardia di Finanza di Catanzaro, guidata dal colonnello Daniele Tino, nell'ambito della costante attività di tutela della spesa pubblica, con particolare riguardo al settore sanitario, finalizzato al contrasto delle più sofisticate forme di illecita gestione delle risorse erariali e delle frodi ai danni dello Stato. Le complesse indagini hanno consentito di delineare, nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, la gravità indiziaria circa la turbata regolarità di nuovi appalti pubblici, del valore complessivo di oltre 33 milioni di euro, banditi dalla stazione unica appaltante della Regione Calabria, dall'Università Magna Grecia di Catanzaro, nonché dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio e dall'azienda ospedaliera Materdomini, ora confluite nell'azienda ospedaliera Dulbecco. Rispetto a tali gare sono stati ipotizzati illeciti legami tra alcuni pubblici ufficiali preposti alla gestione delle gare stesse e gli agenti rappresentanti delle società che forniscono materiali o servizi sanitari, anche mediante la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, con bandi e capitolati redatti in modo da orientare l'aggiudicazione a soggetti predeterminati in violazione della concorrenza e a discapito dell'economicità e della trasparenza dell'azione amministrativa. In alcuni casi sono state ipotizzate condotte corruttive con utilità promesse o erogate ai pubblici ufficiali coinvolti, intese quale remunerazione delle condotte illecite che sarebbero state perpretate in favore degli operatori economici interessati alle procedure. Sono state ipotizzate altresì sul piano della gravità indiziaria reati di falso ed altro nello svolgimento di concorsi indetti da alcuni dei menzionati enti pubblici per il reclutamento di personale e di truffa in relazione alla ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche a beneficio di dipendenti dell'ex azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio in assenza dei presupposti previsti. Si è altresì ipotizzato il reato di truffa in relazione alla percezione da parte di un dirigente medico dell'ex azienda ospedaliera Mater Domini e all'Università Magna Grecia legato ad un contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo delle relative indennità economiche di esclusività sebbene lavorasse occultamente presso due cliniche private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale a 26 nelle province di Crotone e di Napoli e ciò mediante l'utilizzo di due società prive di reale consistenza giuridico-economica che avrebbero emesso sistematicamente fatture per operazioni inesistenti con successiva corresponsione di somme incontanti al pubblico ufficiale. Contestualmente è stato eseguito il sequestro disposto d'urgenza dal PM nei confronti di due soggetti e di una società per un valore complessivo di circa 530 mila euro. Una tipica indagine di Polizia Economico-Finanziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro a tutela della spesa sanitaria che ha consentito di ipotizzare illeciti rapporti anche corruttivi posti in essere tra pubblici ufficiali in servizio presso alcuni enti del Servizio Sanitario Calabrese preposti a gestire le gare di appalto per l'acquisizione di beni e servizi e i rappresentanti di alcune società fornitrici. Il valore complessivo degli appalti monitorati ed oggetto di indagine ammonterebbe a oltre 33 milioni di euro.